Operazione Fora, 10 misure cautelari, indagini su furti di autovetture nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa. Operazione della Guardia di Finanza, sfruttamento del lavoro, indagato ai domiciliari. Policlinico a Caltanissetta, Consiglio Comunale monotematico a Palazzo del Carmine. Sit-in dei lavoratori del centro di Pian del Lago, dinanzi la prefettura di Caltanissetta, ha sospeso lo sciopero programmato. Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale, Assemblea Cittadina, a San Cataldo. Ben trovati studio con l'edizione di oggi del telegiornale. Apriamo parlando di Cronaco, Operazione Fora, 10 misure cautelari, indagini su furti di autovetture nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa. Sentiamo. Nelle prime ore di martedì mattina la Polizia di Stato di Enna, nell'ambito dell'operazione Fora, ha eseguito 10 misure cautelari a carico di altrettanti soggetti di Catania, indagati per la commissione in concorso tra loro di reiterati furti di auto avvenuti nelle province di Enna, Caltanissetta, Messina, Catania e Siracusa tra i mesi di febbraio e aprile del 2022. Sono nove le persone che sono state sottoposte all'obbligo di dimora presso il capoluogo etneo, mentre a uno è stato imposto l'obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria. L'indagine della squadra mobile della Questura di Enna ha avuto inizio nel febbraio dello scorso anno, quando nella provincia ennese sono ricominciati i furti di auto. L'attività investigativa ha permesso di scoprire l'esistenza di due diversi gruppi criminali che hanno agito in trasferta provenienti da Catania, in grado di realizzare le azioni criminali in modo scientifico e professionale, sia in pieno giorno che di notte, riuscendo in pochissimo tempo ad aprire le vetture, metterle in moto e scappare via a bordo del mezzo rubato. Sono stati 19 i furti accertati nelle cinque province centroorientali della Sicilia. In un'occasione gli uomini della squadra mobile di Enna hanno anche intercettato presso il casello autostradale di San Gregorio di Catania una jeep rubata a Taormina circa mezz'ora prima, al momento guidata da uno degli indagati. L'auto è stata poi restituita al proprietario. Grazie al consistente quadro indiziario, il giudice per le indagini preliminari di Enna ha emesso le dieci misure cautelari, riconoscendo la solidità del materiale probatorio raccolto. L'indagine per la sua valenza ultraprovinciale, svolta sotto l'attento coordinamento della Procura della Repubblica del Tribunale di Enna, si è avvalsa della collaborazione di gran parte delle questure della Sicilia. E ancora cronaca, questa volta parliamo dello sfruttamento del lavoro, i dettagli dell'operazione della Guardia di Finanza. La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Caltanissetta, coordinata dalla Procura della Repubblica di Gela, ha eseguito un provvedimento di arresti domiciliari nei confronti del titolare di un'azienda agricola indagato per intermediazione lecita e sfruttamento del lavoro. L'attività investigativa delle fiamme gialle di Gela ha permesso di fare piena luce sullo sfruttamento di 21 lavoratori di nazionalità italiana ed extracomunitaria. In particolare, la persona tratta in arresto era solita assumere braccianti agricoli da destinare alla coltivazione e alla raccolta di frutti e ortaggi all'interno delle serre e sui campi di proprietà, sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno. Le vittime sono persone che versano in condizioni di grande difficoltà economica e senza un'occupazione stabile, che accettavano quindi condizioni di lavoro imposte dal titolare dell'azienda agricola, con paghe palesemente inferiori a quelle previste dai contratti collettivi. Nel corso dell'operazione, inoltre, l'azienda agricola di proprietà delle responsabili, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata posta sotto sequestro. Gli equipaggi della Polizia di Stato nel corso dei servizi di controllo del territorio eseguiti nel territorio provinciale nell'ultima settimana hanno accertato 69 violazioni in materia di circolazione stradale, sequestrato 10 veicoli, ritirato 6 carte di circolazione, 3 patenti di guida e rimenuto un mezzo rubato. 16 persone sanzionate per mancata revisione del mezzo, 14 per mancata copertura assicurativa del veicolo, 11 per guida con patente scaduta, 9 per omesso uso della cintura di sicurezza, 7 per mancato utilizzo del casco protettivo, 4 per utilizzo del cellulare alla guida, 8 per altre sanzioni. I controlli della Polizia di Stato tendono a prevenire gli incidenti stradali ed assicurare una corretta viabilità a garanzia di tutti i cittadini. Madonie, 13 misure cautelari eseguite dai carabinieri di Cefalu e Palermo insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia. I carabinieri della compagnia di Cefalu in provincia di Palermo insieme allo squadrone eliportato cacciatori di Sicilia e al nucleo cinofili del comando provinciale di Palermo hanno eseguito 13 provvedimenti cautelari, 5 in carcere e 8 agli arresti domiciliari disposti dal giudice per le indagini preliminari di Palermo su richiesta della direzione di strattamento all'antimafia guidata dal procuratore Maurizio De Lucia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di associazione mafiosa, estorsione, detenzione illegale di armi e spaccio di droga. Il provvedimento nasce da un'indagine durata due anni sulle famiglie di Cerda e Termini Merese appartenenti al mandamento di Caccamo e quelle di Campo Felice di Roccella e Collesano rientranti in quello di San Mauro Castelverde. Nella notte il blitz dei carabinieri del comando provinciale di Palermo ha azzerato i nuovi assetti mafiosi nel cuore delle Madonie. L'attività degli inquirenti ha permesso inoltre di svelare le decine richieste di pizzo rivolte a imprenditori dei settori immobiliare, agricolo e delle onoranze funebri. Il denaro incassato dalle estorsioni finanziava le casse dei clan. Ci spostiamo a Gela, sei auto in fiamme nella notte intervento dei vigili del fuoco e dei poliziotti del commissariato. Nella notte intorno alle 3.30 in via Francesco Goia a Gela sei auto sono andate a fuoco. Nell'incendio sono rimaste coinvolte una Dacia Sandero e una Fiat Panda di proprietà di un pensionato settantenne. Una Citroen Nemo e una Fiat Panda di un 38enne disoccupato è la Ford Fiesta e la Jeep Renegade di due casalinghe. Quest'ultimi due mezzi sono stati solo parzialmente danneggiati dalle fiamme. Sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco e i poliziotti del commissariato. A seguito del sopralluogo sarebbe emersa la natura dolosa dell'incendio. Non è ancora chiara la dinamica. Secondo una prima ipotesi, l'attentato incendiario potrebbe essere stato indirizzato verso un nucleo familiare. Policlinico a Caltanissetta, un consiglio comunale monotematico a Palazzo del Carmine. Lunedì, nel tardo pomeriggio nell'aula consigliare, si è tenuto il consiglio comunale monotematico sul quarto policlinico universitario, alla presenza dei deputati regionali Giuseppe Catania, Nuccio Di Paola e Michele Mancuso. Presenti anche il direttore generale dell'ASP Alessandro Caltagirone, il presidente del consorzio universitario Walter Tesauro e i rappresentanti delle associazioni Caltanissetta Sicura, Noi per la Salute e Policlinico Universitario. Tutti solidari nel dichiarare che la città di Caltanissetta ha tutti i requisiti per avere il policlinico e non intende mollare. Infine, il consiglio ha votato all'unanimità un documento condiviso da tutti i gruppi consigliari. Il documento rappresenta la base di un atto per andare a deliberare negli altri 21 consigli comunali della provincia. Torniamo a parlare dei precari Covid, la dichiarazione dell'assessore regionale Volo. Sentiamo i dettagli nel servizio. A fine dicembre, in una situazione ancora di incertezza legata alla pandemia di Covid, con grande senso di responsabilità, la Giunta di Governo e l'Assemblea regionale siciliana hanno approvato una norma per la proroga di due mesi dei contratti del personale precario amministrativo e tecnico. Ad oggi, invece, alla luce della nuova valutazione delle emergenze della normativa nazionale, non essendoci più esigenze particolari di gestione, risulta impossibile, tanto per l'esecutivo che per il Parlamento regionali, nell'immediatezza intervenire con nuove proroghe. E' questo il pensiero dell'assessore della Salute della Regione Sicilia, Giovanna Volo, sulla situazione dei lavoratori assunti durante il periodo della pandemia. Resta ferma, ha poi continuato l'intenzione del Governo Schifani e dell'ARS di continuare a valutare soluzioni che in futuro possano essere sostenibili e riconoscere a questo personale l'impegno svolto nel momento di crisi. Il personale sanitario e parasanitario, invece, come annunciato dal Presidente della Regione Schifani, può essere implementato nel sistema sanitario regionale, lì dove risultino croniche carenze di organico. Anche su questo abbiamo aperto il confronto con gli enti e le aziende per arrivare a una soluzione al più presto. Ha concluso l'assessore regionale alla Salute, Giovanna Volo, a margine dell'incontro avuto con le organizzazioni sindacali che nel pomeriggio hanno organizzato un sitini di protesta dei precari Covid in Piazza Indipendenza a Palermo. L'attuazione della rete territoriale di assistenza con l'attivazione di casi ospedali di comunità e delle centrali operative territoriali, COT, fornirà un'occasione utile per il recupero delle professionalità rappresentate dal personale amministrativo e tecnico impiegato nell'emergenza Covid, che nell'immediatezza non può essere inserito nelle piante organiche degli enti e delle aziende del servizio sanitario regionale pubblico. E quanto dichiare in una nota il Presidente della Regione Renato Schifani, nello stesso documento si legge inoltre, assessorato governo regionale Ars lavoreranno insieme per trovare in tempi accettabili la via amministrativa e legislativa più adeguata per raggiungere questo obiettivo nel rispetto delle procedure di selezione per l'accesso alla pubblica amministrazione previste dalla nostra Costituzione. Sit-in dei lavoratori del centro di Pian del Lago, dinanzi la Prefettura di Caltanissetta sospeso lo sciopero programmato. Ieri mattina c'è stato un sit-in dinanzi la Prefettura dei lavoratori del centro di Pian del Lago, relativo al mancato pagamento di ben 4 mensilità e che avevano indotto uno sciopero sino alla giornata odierna. Dopo l'incontro in Prefettura nel quale è stato rappresentato loro l'avviamento delle procedure di pagamento ai lavoratori di tutti gli arretrati da parte della cooperativa S4, i sindacati hanno riunito i lavoratori interessati i quali con compiacimento hanno ritenuto soddisfacente tale notificazione, quindi hanno deliberato di sospendere lo sciopero. Abbiamo effettuato già due incontri con l'azienda e grazie alla fermezza di Sua Eccellenza il Prefetto siamo riusciti ad ottenere un accordo che prevede il pagamento in tempi rapidi di quelle che sono le spettanze dei lavoratori. A tutt'oggi non avevamo ricevuto notizia alcuna del fatto che l'impresa avesse iniziato le procedure perché soddisfasse i lavoratori per le mensilità di cui abbiamo detto. E quindi abbiamo effettuato la prima giornata di sciopero. Durante questa manifestazione siamo stati ricevuti dal Prefetto Vicario, il quale ci ha assicurato attraverso delle telefonate, un'indagine che ha fatto poco prima di incontrarci che certamente le somme pagate dalla Prefettura sono arrivate all'azienda e che l'azienda proprio qualche minuto prima di incontrarci l'avesse assicurato che già aveva iniziato questa mattina a intraprendere la procedura perché si potessero soddisfare i crediti dei lavoratori. Parliamo delle amministrative. In Sicilia si voterà domenica 28 e lunedì 29 maggio con eventuale ballottaggio l'11 e 12 giugno. Si svolgeranno a fine maggio le elezioni amministrative in Sicilia. La Giunta lo aveva già deciso il 2 febbraio e la conferma all'unanimità è arrivata dal governo Schifani nella seduta di oggi pomeriggio. Si legge nel comunicato di lunedì 27 febbraio. Nei 129 comuni siciliani in cui i cittadini potranno esprimere il proprio voto ci si potrà recare alle urne domenica 28 maggio dalle ore 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15, prevedendo anche un eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell'11 e 12 giugno. In 15 comuni si voterà con il sistema proporzionale e maggioritario in 114. L'inserimento di eventuali nuovi comuni, si legge ancora, potrà avvenire entro la data di indizione dei comizi elettorali, prevista con decreto dell'assessore alle autonomie locali tra il 60 e 29 marzo e il 55 aprile, giorno antecedente alle votazioni. Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario Nazionale, Assemblea Cittadina a San Cataldo. Nel tardo pomeriggio di lunedì a San Cataldo, nell'Aula Borsellino, si è tenuta un'assemblea cittadina dal titolo Il diritto alla salute nel Servizio Sanitario. All'assemblea, organizzata dal comune di San Cataldo in collaborazione con l'associazione di promozione sociale Noi per la salute di Nanselmi, si sono toccati diversi temi come il problema delle liste d'attesa, dei livelli minimi di assistenza e dell'ospedale Maddalena Raimonti. Poi si è parlato anche di polo oncologico e quali investimenti del PNRR sono previsti per la sanità. I punti sono molteplici, principalmente si va a sottolineare quelli che devono essere gli interventi per garantire una sanità efficiente nella nostra provincia. Ovviamente toccheremo il tema del policlinico, tanto in voga in questi tempi, vista la recente approvazione dell'Assemblea regionale siciliana, ma chiederemo anche all'ASP quali sviluppi per il polo oncologico, per il Maddalena Raimonti e quali sviluppi sulla base degli finanziamenti previsti dal PNRR. Presa e Residenza. In breve sarà l'occasione per fare il punto sulla sanità nissena, soprattutto con riferimento anche alle liste d'attesa, anche ai livelli essenziali di assistenza. Speriamo che da questo incontro possa nascere una coscienza da parte dei cittadini, perché appunto devono essere i cittadini anche a pretendere che il diritto alla salute venga garantito e che quindi i servizi sanitari funzionino come si deve. Nasce il portale regionale dedicato alle malattie rare sul sito istituzionale dell'assessorato della salute www.costruiresalute.it e attiva una specifica sezione a disposizione degli operatori sanitari e dei cittadini. Dal sito web sarà possibile, in modo estremamente semplice, trovare tutte le informazioni sulle patologie rare per le quali è prevista l'essenzione e sui centri regionali di riferimento. Disponibile anche una pagina dedicata alle associazioni dei pazienti malatirali presenti nel territorio siciliano e una mail dedicata a chi cittadini e operatori sanitari ha dubbi su eventuali patologie e desidera risposte da fonti istituzionali credibili. Cambiamo ancora una volta argomento. Report Siccità. L'autorità di Baccino definisce le misure per fronteggiare la crisi idrica. Riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione, riutilizzo delle acque reflue in agricoltura, razionalizzazione dei prelievi e riduzione dei consumi attraverso le buone pratiche, queste alcune delle azioni a lungo termine, mentre tra gli interventi a breve termine si prevedono razionamenti, pianificazione dell'uso in riguo, utilizzo dei volumi morti degli invasi e ricorso alle risorse sotterranee. Rimangono fondamentali, si legge nel comunicato della Regione, le attività di vigilanza per prevenire prelievi non autorizzati e il monitoraggio, considerato fattore chiave per attenuare gli effetti negativi della siccità. Una serie di misure che rientrano nelle linee di intervento del Report Siccità 2022 dell'autorità di Baccino del distretto idrografico della Sicilia. Occorre da parte di tutti, ha sottolineato il segretario generale dell'autorità di Baccino Leonardo Santoro, una serie presa di coscienza di come la sensibile diminuzione delle risorse disponibili, dovuta alle evidenti mutazioni del clima, imponga scelte decise per contrastare fenomeni siccitosi, purtroppo sempre più invasivi. Soltanto interventi efficaci, seppure talvolta impopolari, conclude. Frutto di una costante sinergia istituzionale, potranno attenuare disagi per la popolazione e per l'agricoltura, che altrimenti rischiano di diventare di maggiore portata e degli effetti ben più gravi. Questo tipo di misure arrivano a seguito delle scarse piogge registrate nell'ultimo trimestre 2022 e anche in questi primi mesi dell'anno. La disponibilità di acqua potrebbe risultare insufficiente a soddisfare i normali fabbisogni, si legge ancora. Da qui la necessità di pianificare misure efficaci per attenuare eventuali disagi e per la cui attuazione l'autorità di Bacino effettuerà una serie di incontri con tutti i soggetti responsabili. La Polizia di Stato ha incontrato due classi della scuola primaria del primo circolo didattico statale di Amicis di San Cataldo, che hanno aderito alla sesta edizione del progetto concorso Pretendiamo Legalità, avviato in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. Il progetto prevede la partecipazione degli alunni a incontri con personale della Polizia di Stato, volti a stimolare la riflessione sull'importanza della legalità e del rispetto delle regole nella vita di tutti i giorni. Nuovi volontari della Croce Rossa superati gli esami del corso di reclutamento. Cresce la famiglia dei volontari del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, ben 15 neo-volontari che hanno superato l'idoneo esame di ingresso. Molto compiaciuto è il Presidente Nicolo Piave che ha evidenziato quanto è utile il ruolo dei volontari della Croce Rossa. Grazie alla formazione, opere di volontariato disinteressato, energie e tempo speso, i volontari si battono per il miglioramento delle condizioni di vita dei più deboli. 15 cittadini che hanno deciso di aderire a Croce Rossa italiana, di svolgere il regolare corso di reclutamento come previsto dalla normativa e superare brillantemente l'esame. Ieri 15 cittadini hanno superato l'esame e sono entrati a far parte della nostra famiglia per poter svolgere le attività consone al loro ruolo, quindi le attività sociali, le attività di supporto alla segreteria, le attività di fundraising, ma soprattutto avere accesso a tutta una serie di corsi utili a poter sviluppare competenze e attitudini personali e per essere sempre più vicini ai vulnerabili. Quindi si partirà con i corsi di primo soccorso, attività di ambulanza, attività di protezione civile, tantissime attività che possono essere messe a disposizione dei cittadini che hanno bisogno. Oltre i 3 milioni e mezzo di euro per migliorare l'efficienza di porti e borghi marinari e garantire più sicurezza e più servizi ai pescatori siciliani, il Dipartimento regionale della pesca mediterranea ha pubblicato il bando. L'avviso è rivolto ai comuni dell'isola e prevede un contributo massimo di 250 mila euro. L'obiettivo è quello di riqualificare i porti pescherecci e potenziare i luoghi di sbarco e la vendita diretta del pescato, attraverso, tra i vari interventi possibili, la realizzazione o il ripristino di segnalamenti marittimi luminosi, ormeggi, ancoraggi, videosorveglianza, illuminazione, ma anche punti acqua e arredo urbano. I lavori dovranno essere conclusi entro quattro mesi, pena la revoca del finanziamento. I comuni interessati potranno inviare il progetto entro le 12 del 31 marzo. All'indirizzo di posta elettronica certificata dipartimento.pesca-certmail.regione.sicilia.it Sport e sano stile di vita al Giardino della Legalità. Sentiamo. Si chiama Sport e sano stile di vita, l'avendo che si è svolto sabato 25 febbraio al Giardino della Legalità San Luca. La Nissa Rugby, in collaborazione con il Comitato di Quartiere San Luca e la Fidas, nell'ambito del progetto del bilancio partecipativo, ha tenuto la prima giornata di una serie di iniziative che fino al mese di giugno prevedono degli appuntamenti che riguardano un equilibrato e sano stile di vita, attraverso lo sport rivolto a tutte le persone di qualsiasi età. È la prima giornata di una serie di iniziative che faremo da qui fino a giugno, che fa parte del bilancio partecipativo, del progetto che abbiamo presentato ormai due anni fa con il bilancio partecipativo insieme al quartiere di San Luca, che ringraziamo, la persona di Nello Ambra in particolare. Oggi ci sarà con noi anche la Fidas, abbiamo cercato di fare degli appuntamenti che inquadrassero diverse sfaccettature della partecipazione sportiva e della partecipazione attiva della cittadinanza, quindi per esempio oggi sano stile di vita e quindi a qualsiasi età muoversi secondo le proprie possibilità chiaramente, ma anche sano stile di vita che significa donare sangue, essere donatore e in generale donarsi agli altri, che è la cosa che ci interessa di più da questo punto di vista. Ci saranno anche altre iniziative da qua fino a giugno, stiamo programmando anche di fare alcune iniziative settimana per settimana, nei fine settimana e insomma a breve avrete altre nostre notizie. Siamo contenti che oggi è il debutto della prima giornata, il primo sabato, di tanti sabati che andremo a mettere a disposizione non per il quartiere di San Luca, ma per tutta la città. Ci saranno giochi, la parte ludica per i bambini, ginnastica dolce per le persone amanti nell'età, iniziative importanti. Noi ci troviamo appunto nel giardino della legalità e anche dei murales in questo quartiere che una volta era denominato il quartiere d'orbitorio che invece è diventato da alcuni, da quasi un decennio, il quartiere della rinascita. E adesso parliamo di eventi e di spettacoli al Teatro Regina Margherita. Sabato 25 al Teatro Regina Margherita di Caltanissette andata a scena Melos Curos di Sicilia. Uno spettacolo ambientato al tempo della Sicilia greca che anche grazie al dialetto siciliano è riuscito a raccontare una Sicilia da altri tempi e la storia di un giovane siciliano che non solo ha sfidato il potere, ma addirittura è riuscito a vincerlo anche grazie all'insorgere popolare in sua difesa. Un viaggio ricco di avventura, personaggi, luoghi e parole, in una corsa contro il tempo che ha permesso di vedere in scena anche l'immagine e il pensiero del filosofo Platone. Grazie all'egregia capacità oratoria e interpretativa dell'attore, autore, regista Gaspare Balsamo e le illustrazioni di Alfredo Cuglielmino, il buon pubblico presente ha mostrato una notevole attenzione che ha consentito ancor più di apprezzare il racconto ricco di cenni storici e valori come l'amicizia, giustizia, onestà e coraggio. Qualcosa di siciliano io direi anche qualcosa di mediterraneo perché è uno spettacolo i cui contenuti affondano le radici nella matrice culturale siciliana ma anche mediterranea, sia per quanto riguarda i linguaggi usati in scena, quelli della narrazione epica, del punto e sia anche per i contenuti. È una storia ambientata nel III secolo a.C., c'è la Sicilia e Siciliota, c'è la Magna Grecia, c'è la cultura appunto della Grecia, proprio quella classica arcaica, ci sono i tiranni a Siracusa, c'è Platone e quindi direi proprio quella matrice è lì che ci piace tanto raccontare. Inaugurata la mostra La Meraviglia in uno scatto allestita al Palazzo Moncada. Si chiama La Meraviglia in uno scatto, l'esposizione di foto che ritraggono scene di vita quotidiana inaugurata sabato a Palazzo Moncada. Undici fotografi hanno donato alcuni loro scatti di prospettive diverse per un progetto comune. Infatti acquistando le foto donate dagli autori si sosterrà un progetto di inclusione per ragazzi autistici. L'iniziativa parte dall'Inner Wheel Club di Caltanissetta in collaborazione con la cooperativa sociale Consenso. La finalità di questa raccolta fondi è appunto quella di aiutare i ragazzi autistici che sono seguiti dalla cooperativa Consenso a intraprendere un percorso di autonomia, quindi è finalizzata appunto l'inclusione sociale di questi ragazzi e ha un'integrazione appunto nella nostra società. Meravigliosa iniziativa organizzata dall'Inner Wheel. La Presidente Pina Dama è stata straordinaria nel volerci quasi a tutti i costi coinvolgere in questo progetto e devo dire che c'è stata questa partecipazione davvero piacevole. Abbiamo messo a disposizione alcuni, due scatti a testa per raccontare un po' il nostro modo di vedere le meraviglie del mondo. La meraviglia è uno scatto, cosa i nostri occhi fermano ritenendolo meraviglioso. Qua devo dire che c'è una grandissima qualità di meraviglie. Ogni fotografo ha proposto ciò che il suo occhio ha ritenuto meraviglioso, ma la cosa più meravigliosa è stata il fatto che 11 fotografi si sono donati, regalati per un progetto più alto, per un'associazione che si occupa di persone che hanno necessità, ma non necessità economiche, necessità di affetto, necessità di amore. Secondo me l'Inner Wheel con questa iniziativa ha veramente centrato l'obiettivo. Bene, era questa l'ultima notizia per oggi, non ci sono ulteriori aggiornamenti. Ci rivediamo nelle prossime edizioni del telegiornale. Intanto vi lascio al Meteo le notizie di pubblica utilità. E come sempre grazie per averci seguito. Amici di Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che vedrà questo centro di bassa pressione posizionato in prossimità della Sardegna a condizionare il tempo sull'Italia. Con precipitazioni inizialmente al centro-sul, ma poi qualche goccia arriva anche al nord. Vediamo intanto la previsione della nuvolosità sul nostro paese, con nuvole in gran parte del centro-sul, ma poi piano piano, come vedete, questa nuvolosità avanza anche verso le regioni settentrionali. Uguale le precipitazioni che inizialmente quindi interessano soprattutto la Sardegna e le regioni centro-meridionali, escluso l'estremo sud con ogni probabilità, ma poi, come vedete, qualche goccia arriva verso sera anche sulle regioni settentrionali. Poca roba, ma meglio che niente. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì che inizialmente sarà con nuvole e pioggia al centro-sud, escluso, come vi dicevo, l'estremo sud dell'Italia. Però poi dal pomeriggio prime piogge su Emilia-Romagna e Liguria, in serata anche su Piemonte, Bassa Lombardia, Bassometo. Al nord, ripeto, sono precipitazioni deboli e si chiuderanno già nel corso dell'anno ottata successiva, però ne abbiamo un gran bisogno. Temperature contenute al nord, un po' più umite al centro-sud. Per i dettagli consultate l'app di Trebi Meteo. Servizi di pubblica utilità Farmacie di turno, Caltanissetta Servizio diurno, al Duomo, via Filippo Paladini Servizio notturno, Vizzini, Viale Trieste Servizio notturno, Vizzini, Vizzini, Vali Servizio, Vizzini, Vizzini Affiliati Tra Bu